6, 7, 8, 9, 10, giù a terra, si rifiata, stop, recuperate, adesso recuperate, ok, voi venite da questa parte, e 2, 2 passano a fare l'addome, voi rimanete qua che siete tosti, dovete fare i ghettos, allora l'esercizio, e questo è il nostro posizionale, tu prendi quello, 2, 6 e dai 25, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 13, 23, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. 20 secondi alternati, anzi voi che siete avanzati, fate questo, solo voi fate questo, alternata, ok, yet kong, frog, cat, bel perfetto, qui già sapete quanti bambis, Walter arrivano altre due, ok, loro due, vi mettete lì, vicino a Marco e fate a dove, l'egresa, ancora in città, aspetta, manca uno, prendi Marco, ci siamo, pronti, 3, 2, 1, sui generis, dai, dai, ci viene, ci viene, ci viene, brava, fatti, dai, cambiatevi per cambiare braccio, a posto. 2, 2, 1, 2, 1, 2. No, 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 5, 6, 7, 9, 8, 7, 9, 4, 3, 10, 2, 1, recuperate. Grazie.